Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Rimondi, lavoro per Biticino, in particolare per la divisione che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione elettronica. Sono progettista software, ho seguito alcuni dei prodotti sviluppati da Biticino nell'ambito della domotica. Oggi faremo una presentazione che comincia con l'introduzione appunto sulla nostra azienda, su cosa facciamo in particolare in quest'ambito e poi dopo si entrerà un po' più nel vivo parlando dell'utilizzo che Biticino ha fatto delle librerie e tutti sui pochi prodotti, un breve storico che va un po' in parallelo anche con lo storico dei vari rilasci delle QT che ci sono stati, delle prime QT3, delle ultime evoluzioni con QML e quindi prenderemo in considerazione uno degli ultimi prodotti sviluppati che utilizza appunto QT Quick come pietro di sviluppo e quindi la tecnologia QML, i vantaggi del caso. Dopodichiaro che ci sarà spazio eventualmente se ci sono altre domande e quindi cominciamo subito presentando un po' velocemente cosa fa la nostra azienda. Allora, Biticino è leader di mercato per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche in bassa tensione, qui ci sono un po' di dati, un numero di dipendenti, diciamo Biticino è stata da un po' di anni ormai entrata a far parte del gruppo Le Gran, che è un gruppo internazionale che ha dei prodotti affini a quelli di Biticino, quindi è un mercato che si è allargato molto anche per quanto riguarda il mercato estero, qui indica anche la percentuale di fatturato dedicato alla ricerca e sviluppo, in particolare noi lavoriamo nella sede appunto in cui si fa progettazione elettronica, nella sede di Erba in provincia di Como, ci sono tante altre sedi di Biticino in Italia che sono a Varese, Bergamo e abbiamo diversi marchi che sono legati soprattutto alle aziende che sono state acquisite da Biticino, si parla di marchi di Biticino, Legrand ovviamente, anche Turchini, Orkroni, Scarloprile, Vantage, Biticino in particolare la nostra sedice è partita occupandosi della videocitofonia per poi passare intorno al 2000 a sviluppare anche prodotti per la domotica, quindi l'automazione della casa. Qui c'è una piccola mappa che presenta un po' come è distribuito il mercato di Legrand, un po' in tutto il mondo, quindi il mercato di Biticino che è prevalentemente italiano si è espanso un po' anche nel mercato estero, questa è una presentazione del nostro site, diciamo che appunto come avevo detto indica che si occupa prevalentemente dell'impianti di videocitofonia e di tutto il catalogo MyHome che diciamo è il marchio che rappresenta la domotica Biticino e Legrand. Qui c'è una presentazione appunto di quello che è offerta MyHome della domotica, qui parla di Bass SCS che diciamo è un po' la base su cui è nato il nostro sistema, il Bass SCS rappresenta il sistema di comunicazione tra tutti gli apparati che partecipano appunto all'impianto domotico, nel modo in cui tutti i dispositivi si scambiano le informazioni, dati comandi, controlli di stato dei vari dispositivi. Questi sono i due marchi principali, sono Biticino e le grande, qui sono indicate le varie serie legate soprattutto l'estetica, i prodotti vengono infatti sviluppati con varie estetiche e con due marchi diverse a seconda che il mercato c'è poi l'italiano, quello internazionale è gestito da le grandi. Qui vediamo appunto al centro del sistema appunto l'SCS che è il nostro Bass, è un Bass che codificano tutti i messaggi tra i vari dispositivi, è un Bass a due fili, molto semplice, la semplicità è stata un po' il punto di forza di questo sistema di inizio per quanto riguarda l'installazione e anche lo sviluppo. Questo Bass consente di trasportare appunto tutti i messaggi, consente di trasportare ovviamente una divisione di banda, trasporta anche il video della videocitofonia, l'audio per la diffusione sonora e in tanti casi quando si parla di un assorbimento abbastanza basso è anche in grado di alimentare i dispositivi stessi in modo da non avere un'alimentazione supplementare. Qui vediamo in particolare un po' di prodotti che vengono collegati appunto da questo Bass, abbiamo un Gateway, abbiamo uno Data Screen, dopo in particolare vedremo un prodotto che è l'ultimo Data Screen che abbiamo sviluppato, vediamo un posto interno per la la videocitofonia, la centrale di antifurto, insomma il collegamento tra tutti i sistemi che fanno parte dell'offerta domotica. Allora, qui parliamo brevemente anche di MyOpen, cioè un altro protocollo che è stato sviluppato a uno stato superiore all'SCS che è un Bass proprietario. L'Open nasce innanzitutto dall'esigenza di controllare da remoto tutto l'impianto di casa, quindi bisognava sviluppare un linguaggio che potesse parlare con tutti i dispositivi che era all'esterno. Questo ha anche, diciamo, apportato l'esigenza di avere un linguaggio che fosse interpretabile e anche comandabile, ad esempio, grazie ai telefoni a Tony. Quindi ha dato, ha forzato un po', diciamo, il linguaggio a svilupparsi intorno all'utilizzo di una codifica numerica, quindi numeri, cancelletti, asterischi, che rende da un lato una limitazione e dall'altro invece rende anche molto semplice la lettura e l'utilizzo di questo linguaggio, che è un linguaggio comunque aperto, è un linguaggio che comunque ci ha permesso di interfacciarci ad altri sistemi, perché chiunque è in grado di parlare questo linguaggio, in grado di dispositivo, è in grado di integrarsi con il nostro sistema. Quindi è un linguaggio molto documentato che permette a tutti di sviluppare dei dispositivi o delle applicazioni che parlano appunto con il nostro pass. Per fare ciò serve comunque ovviamente un gateway, per parlare dall'esterno del sistema, un gateway che non fa altro che fare una traduzione poi di questi messaggi e inviare questi messaggi al nostro sistema. Quindi uno può trasformare con qualsiasi linguaggio con una traduzione in open, appunto i suoi comandi, per interagire col sistema. In principio il gateway era la centrale antifurto, qui spiega ancora che appunto il proprio comunicazione è basato sui toni, qui va a vedere ancora il modo in cui i vari attuatori, sia per la sicurezza che per la liciotonia, per il comfort parlano all'interno del sistema in SCS e verso l'esterno sono interfacciati da questo linguaggio open webnet. Open ovviamente per definizione indica che è un linguaggio aperto, poi ovviamente è diventato anche un acronimo in modo abbastanza conveniente, che specifica il fatto che si tratta di un protocollo aperto per reti elettroniche. È un linguaggio che va su diversi mezzi di trasmissione, indipendente dal metodo di trasmissione, infatti non si tratta intanto che di stringhe che possono viaggiare su seriale, RS232, su usp, via internet ovviamente che è il canale più usato, via usp, è un linguaggio expandibile, infatti è partito con un set non ridotto ma comunque base di comandi, è stato espanso perché ovviamente i sistemi aumentavano, c'era bisogno di controllare molti più dispositivi in vari ambiti, è stato espanso anche in virtù del fatto che bisognava parlare con dispositivi che non erano dispositivi nostri, bisognava comandare sistemi nuovi e il linguaggio fornisce un livello di astrazione diciamo, perché senza banalmente sapere cosa succede all'interno di tutto il nostro sistema e quindi di tutto il pass SCS, uno basta che riesca appunto a codificare, a tradurre i propri messaggi nel nostro linguaggio open e può concentrare subito sulle funzioni e non preoccuparsi di tutta l'installazione del sistema e di tutto il nostro linguaggio proprietario interno. Qui c'è un'altra panoramica di tutto quello che riesce a parlare in open, quindi dal nostro portale attraverso il quale si può avere accesso ai sistemi di casa ci sono tutti i comandi disponibili, le pagine web, i vari touchscreen, i gateway, i software che girano su desktop ovviamente per il controllo del sistema. Qui si vede in modo molto semplice come è strutturata l'architettura di un dispositivo, in particolare qui c'è un touchscreen che è stato uno dei primi a essere sviluppati, il touchscreen da tre collici e mezzo. Vediamo l'architettura software è data da una distribuzione Linux & Method, sopra il quale risiede uno strato software che è uno strato che si occupa di gestire le frame open e all'isopra del quale è implementata l'interfaccia grafica e qui inizieremo dopo a parlare di l'interfaccia grafica per quanto riguarda Qt. Questo è un altro esempio di struttura di un dispositivo, ci fa vedere come viene la comunicazione esterna al sistema. La comunicazione viene ovviamente tramite un gateway che vedete che parla in linguaggio open tramite seguendo le frecce verso il nostro sistema che poi tutti questi comandi vengono girati verso il basso, verso il nostro sistema My Home, mentre verso l'esterno in questo caso vedete questa interfaccia grafica circolare è un software che abbiamo sviluppato internamente che è un software di controllo che gira su PC e che quindi unicamente tramite i comandi open che vengono inviati tramite Ethernet riesce a comunicare con il sistema. Qui parliamo ovviamente anche della comunità My Open, la comunità che sorge intorno appunto a questo sistema open webnet, una comunità di sviluppatori, sistema integrator, che appunto si dedicano quotidianamente, una comunità sempre in espansione, si dedicano all'interfacciamento del nostro sistema con sistemi di domotica diversi. Ad esempio il sistema WACnet è un sistema molto diffuso che ha un linguaggio suo proprietario che abbiamo cercato di integrare il nostro sistema appunto per ampliare l'offerta e poter comandare dispositivi che non fossero i nostri e dare la possibilità appunto di realizzare impianti molto più complessi e anche personalizzati. Praticamente potete vedere la pagina web della comunità a quale potete collegarvi e vedere che genere di applicazioni sono state implementate. Ora cominciamo a parlare un po' più di Qt e della storia che abbiamo avuto con il team di Ticino. Innanzitutto i motivi della scelta di Qt sono, vabbè, non spetta a me dirlo, ma ovviamente la qualità delle librerie, il fatto che siano strumenti di sviluppo sempre più nuovi e sempre più completi, come nelle ultime versioni ai Qt Creator, prima Qt Designer e tutti gli strumenti che aiutavano nello sviluppo. Il fatto molto importante che sia molti piattaforma, cioè il fatto che si possano realizzare e portare applicazioni su dispositivi completamente diversi, su desktop e sistemi operativi di qualunque tipo. Il fatto che abbia una licenza decisamente aperta che permette sia per sviluppare per l'ambito personale, ma anche nel nostro caso in ambito commerciale applicazioni. E qui vediamo Vtouch, è stato storicamente il primo progetto realizzato in Qt che gira su questo touchscreen, che vedete è stato uno dei primi modelli di utilizzare Qt. È stato realizzato nel 2005, è inizialmente sviluppato completamente all'interno di Vticino, mentre nel 2008 è iniziata la collaborazione con Develer, che ha competenze sicuramente maggiori rispetto a noi in quest'ambito e promuove molto l'utilizzo delle Qt, ed è stato praticamente riscritto con tutte le migliorie del caso e con la possibilità appunto di dargli un'architettura più estendibile e più riutilizzabile all'interno di vari prodotti. Qui sono storico seguendo appunto la cronologia di quello che abbiamo fatto con le varie versioni Qt. Partiamo appunto dal 2005 con le Qt ancora Qt3, quando si chiamavano probabilmente ancora Qt Embedded X, che giravano su un hardware basato su PXL255. piano piano crescere appunto delle versioni delle Qt. Ci dedicavamo al porting per poter utilizzare le nuove Qt sui dispositivi e quindi approfittare di tutte le nuove funzionalità e di tutte le migliorie. Siamo arrivati ultimamente col prodotto che presenterò tra breve. Alla nuova versione di Qt siamo partiti dalle 4.7 che erano le prime che implementavano anche QML e Qt Quick. Attualmente abbiamo in produzione un dispositivo che è basato sulle quattro O, ma nello sviluppo che stiamo seguendo adesso è già previsto utilizzare le Qt 5, quindi le versioni più nuove. Si fa vedere che poi VTouch appunto essendo molto modulare ed essendo stato definito una chiara separazione tra quello che è la logica del sistema e l'interfaccia grafica, è stato facile portarlo su vari dispositivi e adattarlo in tanti modi. Qui ad esempio vediamo che un altro tastrino un po' più evoluto è il primo tastrino a 10 pollici, che era basato su molti degli aspetti di VTouch, questo invece è un posto esterno, quindi un citofono esterno. O l'ultimo dispositivo che vedete a destra invece, su quale tra l'altro ho lavorato anche io, un dispositivo che si occupa del controllo della misura sui territori industriali. Questo è un software che abbiamo già visto prima brevemente, è un software per desktop che fa vedere chiaramente come l'aspetto multiplattaforma sia stato fondamentale perché realizzandoli tutti poi verrai su Windows, Linux e Mac. ha il controllo totale di tutti i sistemi gestiti dall'impianto BTC, quindi illuminazione, automazione, tapparelle, cancelli eccetera eccetera, la gestione degli scenari, termoregolazione, sensori di luce, diffusione sonora, controllo carico, controllo energia, anche sistemi più nuovi. Vediamo varie schermate che dimostrano appunto che questo, con un piccolo lavoro di porting, è stato possibile far girare questa applicazione su tutte e tre i sistemi principali per desktop che sono Linux, Mac e Windows. Questo sono delle schermate che riguardano il prodotto che fa un po' da predecessore di quello che vedremo a breve, che era il primo touchscreen multimediale a 10 pollici e che poi appunto si è ritrasformato completamente con una nuova interfaccia nella nuova versione perché abbiamo passati recentemente alle tutti più nuove, quindi è stata riscritta tutta con tutti qui che è ugualmente. Ok, questo è il nostro touchscreen 10 pollici, iniziamo, c'è un filmatino da un minuto che fa vedere un attimo, siccome non era possibile, portare qui il dispositivo a vedere brevemente di che cosa si tratta. Possiamo vedere sia la mercante dell'oggetto, le funzioni, ma in particolare vediamo che cosa è in grado di fare l'interfaccia grafica. Poi vedremo nel dettaglio tutti gli aspetti che stiamo vedendo qui. Innanzitutto come oltre le funzioni di domotica che sono comandabili nel dispositivo, ci sono anche molte funzioni multimediali, dopo elencheremo che cosa siamo stati in grado di introdurre nel dispositivo anche grazie appunto al supporto dei tutti. Sì. 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 Questo sarà brevemente per capire un po' di cosa stiamo parlando, più in pratica e non solo a parole. Sì. Qui sono un po' le caratteristiche tecniche che non so se interessano. Diciamo comunque abbiamo un hardware non nuovissimo, ma comunque un hardware abbastanza potente da poter garantire l'utilizzo appunto del sistema QT Quick. Qui fa vedere un po' le funzioni, in particolare i controlli di tutti i sistemi BTC, la parte multimediale, qui abbiamo il media player, quindi in grado di leggere, filmati e voto, l'allarme sveglia che è integrato con la diffusione sonora, la lettura di RSS, la possibilità di visualizzare delle webcam, il browser, che è una delle cose che abbiamo introdotto che non c'era mai stato sul nostro dispositivo, che è basato su QtWebKit, il QtExperience che è l'applicazione realizzata in Qt, anche questo basato sulla collaborazione con Devler, diciamo che aggiunge rispetto ai sistemi precedenti uno stile di migrazione molto più complesso perché è possibile utilizzarlo per funzioni oppure per profili, ognuno in casa può crearsi il proprio profilo per avere i controlli diretti e personalizzati, sia a livello di funzioni, o per stanze, per cui noi possiamo entrare nelle varie stanze della casa e comandare i vari dispositivi, abbiamo un interfacimento con i contenuti multimediali di rete, la possibilità di personalizzare facilmente la GUI direttamente dal dispositivo e non solo da un software per PC e quindi cambiare gli skin, cambiare la disposizione dei vari widget, cambiare gli sfondi e diciamo le novità introdotte da QtWebKit che hanno portato a dei grossi cambiamenti e miglioramenti sono una simplificazione della fase di design e quindi una più facile collaborazione con i designer che sviluppano l'interfaccia, la facilità con cui si realizzano effetti grafici molto fluidi, il fatto che aiuta a mantenere una separazione tra logica e grafica, quindi un paradigma di model view e il fatto che sia facile anche testare su target diciamo l'applicazione perché il QML è un linguaggio interpretato, è possibile appunto modificare il QML direttamente sul dispositivo e prendere i test in fase di sviluppo. Qui vediamo un po' di schermate che fanno vedere un po' come sono i widget realizzati con QML che sono complessi, animati e sicuramente hanno offerto molte più possibilità rispetto alla rete tecnologia QtWidget che comunque è ancora molto utilizzata da noi. Qui facciamo vedere come l'integrazione sia anche un aspetto fondamentale perché l'interfaccia è abbia di reagire oltre ai nostri comandi a un sacco di eventi che possono essere scatenati all'interno del nostro impianto, quindi l'arrivo di vari tipi di allarmi, di videochiamate, il fatto che partono degli scenari che non sono altro che una macro serie di operazioni che noi possiamo impostare, un scenario che potrebbe essere l'uscita di casa che quindi abbassa tutte le tapparelle e spegne tutte le luci, gli allarmi del sistema Energy che si occupa di controllare i consumi energetici e quindi ci avvisano quando le soglie che abbiamo impostato vengono superate per il consumito apporto in situazioni simili. L'integrazione con il multimedia che quindi deve essere, appunto, deve reagire nonostante noi magari stiamo vedendo un film o stiamo vedendo delle foto sul dispositivo e quindi la grafica di switchare con il testa, poi poi arriva una videochiamata dall'esterno in situazioni di questo tipo che va gestita in base alle priorità, quindi ci sono dei messaggi, delle funzioni che devono avere la precedenza su tutto quello che avviene sul screen. Tutto ciò avviene grazie, come vedete anche dall'immagine, all'utilizzo di pop-up, allo switch automatico di pagine nel caso di Unity. Questo molto in breve è il browser che abbiamo implementato, che è basato su Qt WebKit che è ancora in base di sviluppo, nel senso che lo stiamo tuttora migliorando, aspettando anche probabilmente le videovie che saranno introdotte dalla nuova versione di Qt 5.2 per quanto riguarda WebKit, e che come prima applicazione ha avuto, diciamo, integrazione con un server, con un piccolo server web che risiede sul touchscreen e che ci permette di avere il manuale utente direttamente sul dispositivo del virtualizzato tramite browser. Qui sono dettagli un po' incrementativi, facciamo molto brevemente perché è una parte che mi interessa meno, non so se abbiamo ancora un pochino di tempo. Allora, su questa parte magari può essere... Eventualmente, diciamo, se avete delle domande potete farle nel frattempo oppure... Certo, se c'è una domanda più sull'implementazione appunto si può sviluppare nelle... Agulo, vorrei dire tre cose. Sì. Sì. Allora, qui ho parlato che lei siete partiti da una distribuzione Linux in Venge e poi avete fondamentalmente utilizzato l'interfaccia, quindi tutti... Esatto. E come non le siete cavate con il discorso delle licenze? Cioè, voi in fondo fate dei prodotti che sono poi delle scatole chiuse, quindi tutte le licenze, le GPL, del Care, di queste cose qui... Cioè, avete acquistato tutti i diritti o poi alla fine li mandano parte delle GPL che girano su questi prodotti che vengono poi commercializzati e venduti? Ma di licenze in realtà ne abbiamo dovute utilizzare poche licenze, diciamo, commerciali a pagamento. Ad esempio, mi viene in mente una cosa che abbiamo potuto pagare su diversi discursi, soprattutto vecchi, è la licenza dei BOP, che può sembrare una banalità, ma era una cosa molto costosa per noi. Mentre altre licenze tipo quelle di Qt o appunto per il fatto che utilizziamo un sistema Linux che comunque per definizione è abbastanza libero. Ma la compra sa che c'è Qt sopra o no? Beh no, in realtà è una cosa che l'utilizzatore finale può interessare solo se lui è un dico tecnico, ma comunque è un appassionato. Giusto, ti faccio questa domanda perché è una situazione simile. Prova a vedere la licenza delle GPL, sia quella di Kern sia quella classica del Qt, dice che fondamentalmente tu devi trasmettere la licenza all'utente finale. Cioè, nessun diventa di commercializzare e prendere quelle cose, ma l'utente finale deve addirittura essere in grado di poter cambiare la questione, cosa abbastanza molto, secondo me. Quindi no, era sottosegretta, se avete affrontato questo problema, se non ho detto qualcosa. Ovviamente noi, la maggior parte dei nostri sorgenti, se qualcuno dovesse richiedere, sono per forza a disposizione. Diciamo che l'informazione però è un'informazione che non arriva all'utente finale, nel senso che compra l'oggetto a scatola chiusa, non è scritto nel manuale, che software aveva utilizzato, però ovviamente se uno è interessato a questa cosa, anche attraverso la comunità mitica, appunto, se chi magari non è l'utilizzatore, ma è magari qualcuno che integra il sistema e quindi crea l'installazione, è più vicino a questi concetti qui. Ovviamente si interfaccia con noi e noi lo facciamo volentieri, ma siamo anche costretti, tra virgolette, a farlo, perché appunto queste licenze prevedono che noi mettiamo a disposizione i sorgenti. in quel caso. Benissimo. Lorenzo, ti ringraziamo molto per il tuo intervento. Grazie. Applausi.